Sì, sì, ma dove ti fai? Eh, dove ti fai? Con questo trippicere e polistarolo stai lasciando pace. Stai venendo e mi ritiro l'analisi. Ho sognato con queste piani e non mi perdo. C'è permesso? Buongiorno signorina. Un dottore c'è? No, il dottore non c'è. Signorina, venendo e mi ritiro l'analisi. Stai guardando la testa. Ma voi siete calabreschi? No, perché? Mi pare che voi dovete essere calabresi. Ma bando alle chiacchiere, dai. Un dottore quando vieni. Eh no, non lo sappiamo. Ma io non mi ritiro l'analisi perché stai muorendo quasi. Stai muorendo pure via voi. Ma voi se non siete calabresi ci manca poco. Scusate signorina, io vi faccio una domanda. Per caso vostra mamma si fai una passeata anche una volta in Città Nuova a Locri? E lei così interessa? Perché mi fa questa domanda? Perché sento tutta curva come a strada Luzomaro. No. 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 No.